salve oggi voglio mostrarvi uno scialle che io ho scelto per l'estate aveva a disposizione questo filato molto sottile che ho lavorato con il 3 e mezzo l'uncinetto 3 e mezzo ed ho utilizzato questo schema che ho trovato in rete composto da catenella maglia bassissima e maglia alta io ho iniziato a lavorare ma andando avanti mi sono accorta che questo scialle è troppo chiuso per i miei gusti quindi utilizzando la maglia alta doppia invece di quella alta ho iniziato a lavorarlo in questo modo sempre seguendo lo stesso schema ma creando degli spazi più ampi tra un giro e l'altro io lo trovo diciamo come gusto personale lo trovo molto più leggero visto che deve essere utilizzato durante l'estate o anche addirittura per andare in spiaggia a mo di pareo da mettere sui fianchi quindi oggi vi mostro come seguire lo schema originale ma vi ricordo che sullo spazio di lilla nel post dedicato troverete sia questo schema che quello modificato da me in cui ho aggiunto delle catenelle ai punti iniziali e ho modificato la maglia alta con la maglia alta doppia bene adesso prendiamo un filato di lana in modo che vediamo anche come viene fuori lavorandolo per l'inverno dunque vi ricordo che quello che vedete nello schema questo centrale è un anello formato da quattro catenelle chiuse insieme vedete dove c'è il puntino nero che sarebbe chiuso con la maglia bassissima io preferisco fare l'anellino magico ma oltre questo poi si segue tranquillamente lo schema così come proposto allora io faccio l'anellino magico lo lasciamo largo così in modo che possiamo lavorare di bene tutte le maglie alte e iniziamo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella quindi quattro catenelle in totale una due tre e quattro ora partiamo con la serie di maglie alte divise tra di loro da una catenella quindi noi dobbiamo fare una maglia alta e una catenella per 1 2 3 4 volte e terminiamo con una maglia alta allora maglia alta e catenella maglia alta e catenella 1 2 3 maglia alta e catenella e terminiamo con una maglia alta quindi abbiamo le 3 catenella iniziali più 1 2 3 4 5 maglie alte con 1 2 3 4 1 2 3 4 e 5 catenelle intermedie ora stringiamo tiriamo il filo e stringiamo il nostro anellino magico abbiamo l'inizio dello scialle questo in pratica è la prima riga il primo giro ora passiamo al secondo nel secondo giro dobbiamo fare 1 2 3 le solite 3 catenelle che corrispondono alla maglia iniziale più 3 catenelle divisorie e una maglia alta diciamo questo va tutto nel primo spazio allora facciamo così facciamo le 6 catenelle totali 1 2 3 4 5 e 6 volto il lavoro voi se volete voltare prima fate fate come più siete abituate e in questo spazio lavoriamo lavoriamo una maglia alta ora continuiamo lavorando un punto a v in ogni spazio un punto a v composto da 2 maglie alte e 3 catenelle e dobbiamo fare altre 1 2 3 e 4 allora direttamente un'altra maglia alta nello spazio successivo 1 2 e 3 catenelle un'altra maglia alta sempre nello stesso spazio abbiamo il nostro punto a v di nuovo direttamente nello spazio successivo una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta maglia alta 3 catenelle maglia alta 3 catenelle maglia alta 3 catenelle 1 2 e 3 maglia alta ok abbiamo completato il secondo giro che questo in azzurro ora passiamo al terzo lo vediamo disegnato il nero dunque dobbiamo fare sempre le 3 più 3 catenelle quindi 6 catenelle poi sempre nello stesso spazio non so se voi volete farlo nella terza catenella del giro precedente potete prenderle tutte e tre io le prendo praticamente intorno alla catenella non dentro ripeto voi fate come vi pare io vi dico come lo interpreto poi ognuno è libera di fare in base alla tecnica migliore che conosce allora cominciamo il terzo giro facendo 6 catenelle e 4 maglie alte insieme io faccio le 6 catenelle poi volto 2 3 4 5 e 6 ecco qua 4 maglie alte lavorate nello stesso punto 1 2 3 3 e 4 ora 4 maglie alte in mezzo allo spazio del giro precedente ora come vedete ci troviamo nello spazio centrale dello scialle quindi iniziamo a fare gli aumenti in questo spazio praticamente dovremmo fare due gruppi da 4 maglie alte divisi da una catenella al centro 1 2 3 e 4 4 una catenella altre 4 sempre vedete sempre nello stesso spazio altre 4 maglie alte 1 2 3 e 4 ok passata la parte centrale torniamo a fare 4 maglie alte e 4 maglie alte nei due spazi successivi 1 1 2 2 3 4 4 nell'ultimo spazio faremo 4 maglie alte poi 3 catenelle ed una maglia alta e in questo questo in pratica come vedete sia questo che questo rappresentano gli aumenti laterali quindi perché non abbiamo fatto soltanto un gruppo di 4 maglie ma abbiamo fatto una maglia alta più 3 catenelle di spazio che creano l'aumento questo è quello iniziale questo è quello finale le 3 catenelle con la maglia alta dunque ultimo spazio 4 maglie alte 3 catenelle 3 catenelle una maglia alta abbiamo terminato il terzo giro ora passiamo al quarto facendo le 6 catenelle e il punto a v sempre nello spazio delle 3 catenelle precedenti quindi quindi 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 volto e faccio il punto a v 1 4 1 1 1 3 catenelle 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 tutti i punti a v quindi maglia alta 3 catenelle maglia alta nello stesso spazio di nuovo mezza le quattro maglie alte 1 2 mezzo allora maglia alta 3 catenelle maglia alta siamo nella parte centrale nella parte centrale lavoriamo il punto av in mezzo alle quattro maglie alte 1 2 3 maglia alta ora sempre per seguire gli aumenti centrali facciamo una un punto av nella catenella divisoria tra i due gruppi di maglie alte che abbiamo fatto nel giro precedente quindi eccolo al centro una maglia alta 3 catenelle una maglia alta vedete questa sarà sempre la parte centrale dove si avranno gli aumenti al centro di nuovo nell'altro gruppo nello spazio tra centrale delle quattro maglie alte lavoriamo di nuovo un punto av maglia alta 3 catenelle maglia alta continuiamo sul lato facendo lo stesso lavoro di nuovo nell'ultimo gruppo di maglie di maglie alte il punto av ora nello spazio iniziale dell'aumento faremo come è ben segnato nel nello schema una a un punto av una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta più un altro punto di aumento quindi 3 catenelle e una maglia alta 3 e una maglia alta abbiamo finito il giro il giro numero 4 abbiamo terminato ecco adesso non dovete fare altro che ripetere il 3 e il 4 è uno schema che è utilizzabile benissimo sia per uno sciale estivo che per uno sciale invernale se avete pazienza potete anche fare il cambio di colore tra un giro e l'altro oppure utilizzare un bel filato sfumato nei colori che più vi piacciono allora vi ricordo che trovate gli schemi da stampare sullo spazio di lilla arrivederci e buon lavoro con lilla